Donare la propria voce a chi a causa di una malattia l'ha perduta è il progetto che vede insieme AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e Unicop Firenze, sezione soci di Pistoia. Sì, la sezione soci cop, incontrando la sezione AISLA di Pistoia, è venuta a conoscenza di questa possibilità gratuita. Purtroppo la malattia, essendo degenerativa, porta il malato a perdere anche la voce. My Voice è la campagna promossa da AISLA per poter permettere a tutte le persone con SLA di poter usufruire del progetto di voice banking e donazione della voce. A Pistoia, attraverso una compilazione semplicissima di una cartolina dove ci sarà scritto un numero di telefono, saranno contattate le persone che in modo gratuito decidono di contribuire a questo bellissimo progetto, costo zero, ma che daranno voce a chi purtroppo voce la va a perdere. O anche i malati stessi che ancora hanno la possibilità di parlare saranno registrati e quindi un domani, quando attraverso una voce metallica fino ad oggi parlavano, avranno la loro voce umana. A Pistoia il progetto verrà illustrato nel corso di un evento che si suocerà giovedì 15 giugno alle ore 16 nella saletta soci cop di Viale Adwe.